Adesso dobbiamo rinforzare l'affermazione della democrazia, non esiste un governo che tradisce le regole democrafici. Adesso diciamo qual è lo Stato Donimo? Stato Donimo è molto entusiasta, adesso dobbiamo rimetterci a lavorare, recuperare il tempo perduto e soprattutto chiedere a tutti i media che contribuiscono a far sapere ai cittadini italiani che il referendum c'è, si vota sul nucleare e bisogna raggiungere il quorum. Viva la democrazia, viva i referendum! Viva la Costituzione! Viva la legalità! Adesso batti quorum! Oggi è una bellissima giornata per la democrazia italiana, il referendum sul nucleare si svolge e ha, nonostante l'emendamento truffa del governo Berlusconi. Adesso tutti a lavorare per portare i cittadini a votare il 12 e 13 giugno per dire sì alle rinnovabili non lucrari, per l'acqua pubblica e fermare la privatizzazione per la regionale Berlusconi. Una grande giornata, il 12 e 13 giugno possiamo scrivere una nuova pagina di storia per il nostro paese. Grazie! 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 Grazie!